E così, dopo il chiarimento, la gabbianella, Zorba, il colonnello e la segretaria stanno andando da Diderot, il gatto enciclopedico, per farci dare qualche buon consiglio su cosa da poter fare, per aiutare la gabbianella a crescere. Che dite, ce la faranno a dare un legato fine a questa storia? Non ci resta che andare a scoprirlo. No, ma no, ma lei è un disatto, non c'è più niente, ma dov'è, dov'è? Non c'è così terribile. Ma quei maledetti topi si sono mangiati nel cd con le cartine topografiche. E per forza che si sono mangiati, sono topografiche. Sono cartine geografici che spiegano come gira nel mondo senza avvertersi. Quei brutti topi si sono mangiati la cartella per Madagascar. Segretario. Hai ne conto, signore? Utalizzo subito una fattura di cartella contro quei topi si sono mangiati il matra-tarta. Il Madagascar. Scusi, senti, togli le mie boli da lago. Diderot, dimmi da lago. Siamo venuti qui per chiederti che cosa bisogna fare per far volare un gabbiano. Un gabbiano? E che c'è tutto con un gabbiano, scusami. E diventa una mamma di un gazziano il nostro Zorba. Amore, al limite sono diventata papà. E comunque, la sua mamma prima di morire me l'ha affidata e mi ha detto, per piacere, prometti, falla a crescere, dalle da mangiare e insegnale a volare. Non so da che parte cominciare. Non c'è problema, allora, tranquilla. Adesso ti diamo aiuto su internet e troveremo la risposta. Su che cosa? Su internet. E' una grande incitomedia che sta dentro un computer. E' ottimissima, vedrà. Lo portiamo a tempo, cerchiamo su questo internet. Internet. E io cos'ho te. Un'altra roba. E' un'altra roba. Ecco qua. Si nutre di insetti. Ma non non eschi pezzi. No, tu puoi. Ma anche di piccoli pesci. Ma già meglio. Sì, ma cerca che cosa bisogna fare. Farla volare. 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 Oh, innanzitutto, ecco qua, bisogna rafforzare le armi. Importantissimo. Così. Sì. Dopodiché risolta allenarsi a resistere al vento. Sì. Bravo. E anche essere aerodinamici. Aerodinamici. Ma noi dobbiamo andare a cercare qualcosa da mangiare. Ma non sarà facile insegnarli ad essere erodinamici. Aerodinamici. Sì. Ancora. Ma tu non hai niente da fare. No. Eh... Grazie, diterò. Allora... Eh... Adesso andiamo subito dalla nostra gazziana. Sei stato veramente molto utile. Grazie. Non c'è problema, certo. Scusate, ma. Come si chiama? E cosa mi dico? Come si chiama? Veramente... Veramente un uomo e non ce l'ha. Ma sarà necessario dargli un uomo? Eh... Ma certo. Sei stata fortunata a trovare te, zomba. Già! Fortunata. Questo deve essere il suo nome. Tu parli troppo. Sì. E' meglio. F-O-T-U-N-A-T-A. Iguale. C'è anche a me, colonnello. F-O-T-U-N-A-T-A. Quale? Allora andiamo. Andiamo dalla gabbiana. Ciao. Fortunata. Buon lavoro, ragazzi. Chiestamente i bisogni. Anche io sono qui a lavorare, eh. Non ho studiato troppo su questo internet qua, eh. Internet! Se mi togno i nevoli dal don, che basta!